D'estate non vediamo l'ora di goderci il mare e la spiaggia in serenità, ma per farlo dobbiamo tenere a mente la nostra sicurezza. Anche se sei un buon nuotatore, evita di fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche e non nuotare da solo per lunghe distanze. Questo ti permetterà di scongiurare situazioni di emergenza impreviste. Quando sulla spiaggia è esposta la bandiera rossa, significa che la balneazione è pericolosa. Evita di entrare in acqua. Per altri consigli per la tua sicurezza in mare, consulta il sito www.guardiacostiera.gov.it